Quanti giorni ti fermi? Quattro. Abbiamo un po' di soldi perché io sono proprio a secco. Possiamo fare quello che vuoi. Hai sentito Truman? Ce la spasseremo noi tre. Io e te. Truman e io. Lo so che preferiva che venissi con mia cugina, dottore. Che è molto più bella del mio amico, ma dato che è venuto a trovarmi, non potevo togliermelo dai piedi. Lui a te ti ascolta. Tutto quello che dici per lui è importante, Thomas. Qual è la cosa tanto importante che tu hai imparato da me? Sentiamo. Che non chiedi mai niente in cambio. Io ho due figli. Uno si chiama Truman. E vuoi disfartene per quale motivo? Parto per un viaggio e non posso portarlo con me. E io? E tu che? Che hai imparato da me? Assolutamente niente. Cose illegali di sicuro. E io? Che hai imparato.